Weekend fortunato per Ragusa e Modica. Entrambe si sono qualificate al secondo turno di Coppa d'Italia di promozione. Il match tra il Modica calcio e l'Atletico Scicli si è disputato domenica allo stadio Aldocampo di Ragusa. I tigrotti di Mister Rappocciolo hanno vissato il successo della gara di andata, confermando i progressi di settimane di intensa preparazione. Risultato finale 3-1 per il Modica. In rete per i modicani Caccamo, autore di una doppietta, Gianmarco Galfo. Per l'Atletico Scicli ha segnato Campailla. Con lo stesso risultato dell'andato, ovvero 2-1, anche Ragusa calcio è passata al secondo turno, battendo il Frigentini. Per il Ragusa hanno segnato Lombardo e Furnò, per il Frigentini un gol di sella. Il match si è disputato di sabato allo stadio ragusano dell'Aldocampo. Il fattore campo ha influenzato positivamente la prestazione degli azzurri, come più volte sottolineato dall'attaccante Andrea Furnò, colui che ha realizzato il gol a 48esimo minuto del secondo tempo. Un'emozione bella, un'emozione davanti ai tifosi che mi ha dato anche carica alla fine della partita. Grazie anche a loro che hanno spinto durante tutto il match. Ho creduto sempre che quella palla arrivasse lì e alla fine è arrivata, è arrivato anche il primo gol di stagione. L'aiuto dei tifosi ci ha dato una mano durante la partita, squadra rognosa, il Frigentini, qui devo fare i miei complimenti, però abbiamo imposto il nostro gioco sia all'andata che al ritorno e il fattore campo mi ha dato molto, molto importante anche vincere la prima in casa. Ottima prestazione in campo anche per il portiere Giuseppe Iannò. È stata una partita comunque diversa da quella dell'andata, perché sapevamo che con il rientro di Pianese e altri giocatori trovavamo una squadra differente, una squadra comunque aggressiva, una squadra che voleva ribaltare il risultato. Però siamo stati bravi, siamo rimasti compatti anche sul gol dell'1-1 e alla fine c'è stata la zampata di Furnò che ci ha fatto stare tranquilli gli ultimi 5 minuti. Intanto la squadra azzurra e la dirigenza saranno presentati ufficialmente alla città a venerdì 7 settembre in Piazza Libertà.